Per i danni causati dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali che si sono verificate nel mese di agosto 2022 alle aziende agricole nella gran parte del territorio della Sardegna, la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura Valeria Satta ha approvato la delibera per il riconoscimento dei ristori. I danni accertati ammontano ad un totale di 9.700.000 euro circa e hanno interessato quasi 250 aziende con danni superiori al 30% del totale della produzione e dei danni alle strutture. L'assessore Satta spiega che per le gravose avversità atmosferiche che hanno colpito gli agricoltori ed allevatori è stato riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica che ha colpito principalmente, ma non solo, il settore orticolo in pieno campo e in cultura protetta carcioficolo, frutticolo, viticolo, agrumicolo, ovicolo, bivaistico, floricolo, cerealicolo e foraggero. Adesso, dopo la certificazione che queste zone sono state realmente danneggiate, si procederà al ristoro. Le zone più colpite in quegli avvenimenti di eccezionale gravità sono il Campidano di Cagliari, la Tregenta, il Parteolla, il Sarcidano, la Gallura, Nuorese, Baronia, Romangia, Sasserese, Montiacuto, il Capoterrese e i comuni appartenenti al Coros.